I miei zii sono proprio da foge. Da foge? Da foge. Qui tu capisci tutto questo quando parliamo fuggione. No, fuggione, ma ogni patana, non sono più bello che sono i campani. Bellissimo. Bomba ragazzi, benvenuti a Scuola di Voce Masterclass. Il mio ospite di oggi è Maurizio Merluzzo. Eh? Dai. Ragazzi, Giovanni Mucciaccia. Ciao a tutti. Vero, unico grande ospite della puntata. Tutti pensano che tu sia nato fatto di carta colla, no? C'è, no, di carta colla. In realtà tu sei nato a Foggia e poi hai debuttato nel mondo della televisione nel 1992. Quando avevo 22 anni mi sono stato molto fortunato perché io venivo dai villaggi turistici, mi divertiva molto, ho deciso di fare sul serio, quindi ho frequentato delle scuole di teatro e alla fine di uno spettacolo importante con Pagliai Gasman, teatro classico, faccio un provino in televisione e mi prendono a fare Disney Club. Poi sono passato da Bandero Zecchino che era un altro programma per ragazzi della rara, poi sono stato fermo per un po', è stato un periodo tostissimo, poi è arrivato Art Attack. Anche nei nostri cuori è arrivato Art Attack. In realtà io ho girato 11 edizioni però è andato per 20 anni ininterrottamente in onda. Dal 1998 al 2018 tu sei insegnato ai bambini a non farsi male e a costruire cose con le forbici con la punta arrotondata, ragazzi. Che la prima generazione oggi ha 35 anni, 34. Io nel 98 avevo 12 anni quindi ero tornavo da scuola. Poi lo guardavi? Sì, sì, sì. Ma provavi a rifare pure le cose? No, perché io ci provavo ma succedeva di tutto. Io con forbici, carta e colla riuscivo a dare fuoco alle cose. Quello che abbiamo detto prima è una particolarità, ovvero che tu sei nato a Foggia, ma non hai un accento pugliese, nel senso il tuo modo di parlare è un modo di parlare molto pulito, anche molto scandito. Credo che sia il mio modo di essere, però è stato molto difficile per te che sei un doppiatore e nessuno può capirmi meglio di te, ripulirmi del Foggiano. È stata una delle imprese più difficili della vita. Credevo che non ce l'avrei mai fatta. Perché era molto forte il tuo accento Foggiano. È molto forte, è strettissimo, le tisono di... Cioè Foggia quando squilla il telefono, la persona dall'altra parte dice Pronto? Un momento, a chi vuoi? A Pino, ok. Paino! Paino! Io mi sono ammazzato di... Cioè... Il primo che mi fa tutte e sette le vocali. I miei ditori sono originari della provincia di Foggia, ho molti zii a Foggia, quindi ho questo suono. Miei zii sono proprio de Foggia. De Foggia! De Foggia! Sono proprio de Foggia! Un po' fuggiani! Quindi tu capisci questo coso quando parliamo Foggia. Un Foggiano, ma ogni patana. Sono un po' ducchi e sono i campani. Bellissimo! È stato molto difficile, però a Pino ce l'ho fatta e adesso mi diverte molto la possibilità di poter switchare da una cosa all'altra. A casa tua come si parlava quando eri bambino? Quando i miei genitori andavano su di giri si parlava in leccese, perché i miei genitori dittimi Eh, i miei genitori sono salentini, che io capisco perfettamente, lo parlicchio. Cioè, c'è te pensi che sono turista o solo vippi che è venuto in vacanza qua e che io avevo dei moi che vengo qua da quando ero magnone, sai? Quindi ci provo, però chiaramente... Poi a scuola, ovviamente, il foggiano, che è quello che poi si parla di più a scuola. Eh sì, io poi vengo da quelle generazioni, sai, che giocavano molto per strada, a pallone, anche giochi a volte di una certa violenza, zumba, cavallo, lungo lungo e Kurt Kurt. Oddio, questo non lo conosco. Praticamente c'era uno che si metteva contro il muro, tutti gli altri si abbassavano e poi iniziava la squadra in fondo, prendevano in corsa, saltava su tutti e doveva arrivare il più possibile in fondo, no? E quando partiva diceva, zumba, cavallo, lungo, lungo e Kurt Kurt e faceva sto salto. E facevamo tutti questi giochi di strada, Mazze e Bustique, che era... Da noi si chiamava Mazze e Mazzaried. Mazze e Mazzaried. Vedi che tu gli colpisci la cosa, pam, c'era una specie del baseball, no? Quindi c'era una veracità anche nel tuo modo di parlare. C'è invece qualche modo di dire, qualche scioglilingua in foggiano che conoscevo, anche in Salentino? Ma in Salentino ce n'è uno che recita così, che dice... E io ti dirò una cosa, c'è anche nel mio dialetto. E shen manen maluna kuglien maluna kuglien shen manen. Esatto. Se sei arrivato fino a qui sei un grande, ma sai cosa puoi fare per diventare il mio eroe? Abbonarti al The Merlots Club. Sì, perché se ti abboni potrai avere vantaggi pazzeschi, come video esclusivi senza pubblicità, pieni di aneddoti e curiosità, chat dal vivo riservata, risposta ai commenti prioritaria, tutto con la rima e tanto tantissimo altro. Io, se fossi in te, mi abbonerei. Ok, ma facciamo un gioco, si chiama Art Attack Taboo. Tu avrai a disposizione un minuto, io ti mostrerò degli attacchi d'arte e tu dovrai descriverne come costruirli senza utilizzare le parole che vedrai di fianco. Va bene? C'erro io, non ho mai giocato a tabù. Pronto? Sì. Via! Dobbiamo, con un elemento molto sottile ricavato dagli alberi, cercare di costruire una cosa che ha una forma di un cono usando un elemento che finisce con delle setole per dipingerlo e usare un colore molto vivo, molto acceso, e vabbè ma vuol dire un colore caldo. Un colore caldo. Che è un elemento della natura, al tramonto esprime la sua massima potenza. Favoloso! Cioè, è una poesia! Ma benissimo! Questo è il più facile però, eh? Allora, utilizzando un elemento che mi contraddistingue, è diventato un meme, insomma, mi sta un po' appiccicato addosso, diciamo, da sempre, bisogna prendere sempre un prodotto ricavato così dagli alberi, dalla macerazione, poi una serie di cose colorate che si usano anche e soprattutto per bere le bibite, sono sottili, ma non è detto, possono essere anche larghe. All'interno di questa cosa che viene costruita, con tutti questi elementi che vi ho indicato, bisogna poi mettere un'immagine di noi stessi, un ritratto di noi stessi. Fantastico! Cioè, cosa sta? Meno male! Una cornice, per favore! Era una cornice con le cannucce! Ma ora, quella veramente difficile. Pronti? C'ho proprio un momento, ragazzi! Siete pronti? Uh! Questo è un cult di un programma che io ho condotto, che vi ha fatto impazzire. viene realizzato con un altro oggetto che fa parte della mia storia, che è unito all'oggetto di prima, in modo che poi questa cosa si possa solidificare. E in mezzo ci vuole anche qualcosa che tenga unito il tutto e che sia dotato di materia collante, appiccicosa, che lo tenga insieme. Questo tizio che viene fuori non è proprio umano, sicuramente ve lo ricordate, perché aveva tre palline da ping pong, nel quale io avevo disegnato poi un piccolo puntino nero e ha il colore tipico delle, diciamo, delle persone, chiamiamole così, che arrivano da altri pianeti o che comunque non sono umani, diciamo. Perfetto, perfetto, favoloso, grazie, grazie. Noi prima di questo avevamo fatto l'ape, cioè questa è la struttura poi per fare tutti questi pupazzi che nasce dal palloncino. Però questo qua, questo qua, c'è un errore, perché questo non è fatto con la carta igienica, questo è fatto con la carta da cucina, che è un po' più spessa e un po' più ruvida e cambia molto eh l'aspetto del... mentre l'ape era fatto con la carta igienica, vabbè un piccolo appunto però ci sta. Io me la prenderò con gli autori. Si può fare pure con la carta igienica. Ma a proposito, ritrovarti a costruire tutti questi oggetti, questi pupazzi, questi mostri, come ti sei trovato? Ti hanno detto ah Giovanni da domani tu farai dei pupazzi con la carta. Beh all'inizio era così eh, in realtà al provino loro cercavano qualcuno che sapesse rifare gli oggetti. Cioè quando sono stato provinato dovevo portare qualcosa da far vedere no? E quindi mi sono presentato con degli stuzzicadenti dell'uva passa e gli ho costruito un cane. Gli è piaciuto talmente tanto come ho descritto quell'oggetto che sono stato scelto per quello. Perché poi in realtà loro hanno strutturato il format in un altro modo, cioè hanno utilizzato un manista che faceva i lavori per tutto il mondo e noi presentatori mettevamo la voce, la gestualità, la nostra espressività no? Il racconto dell'oggetto quando era in campo. Fare questo no? L'assemblaggio di questa cosa, questa roba qui veniva provata decine di volte. Perché quando poi il manista andava in studio doveva farla buona da prima, con tanti assistenti anche che li giravano intorno. Quindi anche quella era una cosa che andava provata e andava fatta velocemente. Poi quelle mani venivano montate in tutte le lezioni. Il passaggio come è stato? Io la prima edizione di Art Attack, quella che è durata sette anni, io l'ho girata tutta la Londra e gli inglesi non capivano un H di quello che io dicevo. Quindi se io, per dire, avevo questo oggetto in scena, sempre lui, ormai ci sta simpatico. Vedete il nostro marziano con i tre occhi? Loro non capivano che sopra. Tu potevi dire quello che volevi. Esatto, per far capire dovevo dire, vedete il nostro marziano con i tre occhi? Allora loro capivano e staccavano la camera per fare il primo piano. Appena la pittura sarà asciutta avremo questo simpatico mostrillo. Però ecco, l'idea di andare a lavorare a Londra, in questo contesto, per un mese e mezzo mi affascinava. Poi la prima edizione fu anche complicata perché facevamo un'edizione per bambini molto piccoli, no? Io avevo una gestualità, un'espressività molto esagerata. Ok. Poi invece quando è andato in onda ci siamo resi conto che il format era adatto a bambini più grandi. Quindi poi io mi sono ritarato dalla seconda serie in poi, mi sono modulato in un altro modo e l'ho fatto in tutt'altro modo. Che è quello che poi è l'impostazione che hai portato avanti. Esatto, bravissimo. Anche per loro era una novità perché loro lo facevano da 7-8 anni sulla BBC. Questo programma ha avuto un grande successo, lo conduceva Neil. Lui faceva i B-pitcher. Cioè Neil è diventato come un attore americano perché quei B-pitcher venivano montati nelle versioni di ogni paese. Quindi anche la Spagna conosce Neil. Lui mi raccontava una volta che era venuto in Toscana. Tu hai conosciuto Neil? Sì, certo. Di notte è arrivato, è andato su un paesino, non so dove, in montagna, in una locanda. La signora appena l'ha vista ha detto, Neil! E mi diceva, è incredibile perché ero veramente nel nulla. Questo per farti capire un po' la faccenda. Quindi ritornando alla domanda iniziale. Io mi sono reso conto che il programma era importante, cioè era una novità assoluta per l'Italia. Era un'esplosione di creatività. Non potevo immaginare che sarebbe durato 20 anni. Così tanto. Io ho una curiosità. Se a casa tua si rompe qualcosa, la aggiusti tu o chiami qualcuno? E se la aggiusti tu, le mani sono le tue? Penso che c'è stato un periodo in cui io facevo gli Art Attack politici e non solo. Mi ero fatto, ce l'ho ancora. C'ho due mani, due moncherini, fatti di... Io me li mettevo a fianco sul tavolo e giravo con ste mani, no? Perché era un po' un ricordo. Dicevo, ragazzi, vedete, adesso le mani sono davvero le mie. Poi ogni tanto abbiavo ste mani e lavoro pure con queste. Che c'avevano i polsini come Art Attack. C'è una cosa che non tutti sanno. Io pratico arte, lo faccio davvero. Cioè nel senso che le cose che più porto nei miei spettacoli, io le provo a studio. Anche molte delle cose che sono state pubblicate nel mio libro, sono dei lavori miei, sono dei dipinti miei. Mi servono per raccontare l'arte contemporanea, per spiegarla, per farla capire al grande pubblico. Quindi la devo realizzare ai lavori. Certo. Quindi il mio è un lavoro continuo di ricerca. Poi magari un giorno, forse vi farò anche vedere quello che sto facendo. L'edizione della Musa d'Oro, in cui non c'eri tu, si era rotta una Musa d'Oro e il Gianluca Iacono l'aveva afferrata male. È quella che c'ho io a casa. È quella. Sì, ogni tanto si stacca. Esatto. E io presentavo la cosa, pezzo di carta, l'ho preso, l'ho assemblato, l'ho riparato, mi è venuto di stile. Cioè mi diverte, mi piace. La manualità fa bene, dovrebbero praticarla tutti. Siate manuali. Assolutamente. La manualità fa bene perché tu sei concentrato esattamente nella cosa che stai facendo in quel momento. Quindi siccome sei concentrato, devi riuscire a farla, non pensi a nient'altro. Ti fa bene, ti svuota. È quasi una forma di meditazione. Provare per credere. Quindi dicevi, hai parlato di un tuo show dal vivo, di un tuo spettacolo dal vivo, immagino sia itinerante. Sei tornato un po' alle origini, dal teatro alla televisione allo show dal vivo. Quindi sei tornato un po' al teatro. Sì. Com'è tornare un po' così? Ma guarda, è bellissimo perché ritrovo il pubblico che ho cresciuto, che oggi ha 35 anni, che sono poi quei bambini che mi venivano a vedere negli spettacoli quando erano bambini. Perché uno spettacolo è nato per caso, vent'anni fa. Il comune di Campobasso, sempre per rimanere lì in zona, mi chiama e mi dice perché non mi ne faccio i due attacchi d'arte? E dico, ma guarda, perché no? Quindi dal palco inizia questa avventura con i bambini all'epoca, gli facevano gli attacchi d'arte e loro li riproducevano dal vivo. Poi piano piano questa cosa si è evoluta e oggi ho scritto due spettacoli che nascono dalla scrittura del mio libro e che mi servono per raccontare l'arte contemporanea. Per esempio nell'ultimo spettacolo parlo del meme come una forma di comunicazione contemporanea, no? Certo, è vero. Che veramente è la portata di tutti. E tu sei meme. Io sono meme, sono un meme vivente, che ormai ce li facciamo da soli. Ho una bravissima social media che si chiama Elisabeth Cagliardi che ogni tanto mi fa anche lei dei meme straordinari. E quindi in questo spettacolo racconto qual è la tecnica comunicativa del meme perché dico sempre tutti possono diventare dei grandi artisti e tutti possono fare un meme, tutti possono diventare virali. Da lì gli faccio vedere però che il meme in realtà non è una cosa che nasce oggi, affonda le radici nella poesia visiva degli anni 60 quando gli artisti iniziano a sperimentare i collage tra foto e frasi, no? Per provocare lo spettatore. Poi gli faccio fare un meme di carta perché a quel punto c'è reminiscenza di Art Attack e poi li racconto Banksy perché anche lui a volte ha utilizzato una poetica che ricorda quella del meme però soprattutto glielo faccio vedere in un modo che non immaginano, che non hanno mai visto. Ormai sono cresciuti, no? Quindi vabbè abbiamo fatto pupazzi per una vita, adesso siamo più grandi, anch'io sono cresciuto. Perché dei pupazzi? Esatto. Quindi dal teatro alla televisione al teatro dove insegni i meme quindi social. Come ti trovi con il linguaggio del social? Guarda benissimo anche perché la televisione vive in una fase molto particolare. Purtroppo lo dico perché ho fatto tanta televisione mi dispiace però lentamente si sta spegnendo perché i giovani la guardano sempre meno, no? Cioè in realtà questa cosa qua è la televisione, questa. Poi è anche un telefono però è una televisione che noi ci portiamo in giro. Boom ragazzi, sono nei laboratori di analisi e di controllo qualità dei burri produce, di pistacchio, di nocciole, di arachidi, di mandorle, tutti i burri possibili oggi. Sono qui per assaggiarli, per farvi rosicare. E' buonissimo che ve lo dico a fare col codice sconto MERLUTS10 avrete questo baratto qui dove io ci ho messo il dito. Ovviamente utilizzando il codice MERLUTS10 avrete anche il 10% di sconto MERLUTS10 che il codice più bello e più usato d'Italia. Ci sono un sacco di gente che fa il tuo cosplay. Ti è mai capitato una situazione un po' particolare con qualche fan? No, guarda, mi è capitato adesso a Lucca Comics, Elisabeth aveva pensato a questo meme. Ci sono tutti aspetti di trovare Giovanni Mucciaccia a Lucca Comics e quello che realmente trovi ed era una foto di uno di questi ragazzi che mi fa il cosplay. Quindi abbiamo mandato, perché io poi nello spettacolo faccio vedere delle foto, mando dei video per raccontare, spiegare quello che devo raccontare al momento. E quando abbiamo dato questo meme lui era lì, era seduto, ma noi non lo sapevamo, no? Quindi è stata una coincidenza incredibile per cui si è alzato in piedi, c'aveva la testa del capo, applauso del pubblico. Molto divertente. Ogni tanto trovo anche qualche ragazza che si veste da colla vinilica. Oppure vengono in coppia, capito? Lui vestito da Giovanni Mucciaccia e lei da colla vinilica. Capito? Però lo sai che c'era una cosa che volevo dire che non ho mai detto a nessuno. Fermi, non l'ho mai detta a nessuno. No, questa te la dico qua perché parliamo di doppiaggio e tu sei un grande doppiatore. Grazie. E spesso mi camuffo per strada, nel periodo di Fiorello non ti dico, non potevo andare in giro. Però se parlo mi riconoscono, cioè io posso andare anche a un metro camuffato e non mi becchi. Perché probabilmente io in Art Attack ho fatto del doppiaggio. Io doppiavo le mani. Certo. Quelle mani che cercavo di interpretare, anche con delle indecisioni, delle pause che avevo, che mi riportavo dal teatro per dare quella sensazione che fossi io a farlo. A farlo, certo. Perché in realtà erano loro che me lo chiedevano, no? Cioè loro mi chiedevano di essere dentro al processo, no? E quindi è diventante questa cosa, la mia voce, no, è entrata nel ricordo delle persone. E poi come sai, quando tu doppi i cartoni, no? Certo. E quindi ti assola, diciamo, ti riconoscono, diciamo, ma questa è la voce di quel personaggio. Tu sei la voce delle mani. Io sono la voce delle mani. Però tu hai fatto comunque un ruolo da doppiatore. Sì, piccolino. Un piccolo ruolo nei Robinson. Sì, tipo, Freddy dove sei? Le macchine del tempo sono sparite! Come è stato? È tosto, è difficile, doppiare non è uno scherzo. No. È complicatissimo. Non devi solo beccare il sync, devi interpretare, è un vero lavoro da attore. Devi essere molto capace, molto allenato. Io l'ho fatto con la Izzo, lei è stata molto brava a guidarmi, mi sono divertito, poi vabbè, insomma l'esperienza è finita lì. Spesso mi dicono, ma perché con questa voce non hai mai intrapreso la carriera del doppiaggio? Non lo so, boh, non mi ci sono trovato dentro, no? No, perché poi sono anche vocazioni. Però io lo ricordo con piacere, anche perché ti citi nel doppiaggio stesso, viene citato. Viene una cosa straordinaria nel film. Esatto. Nel film stesso, sì. Nel film, diciamo, perché la versione americana nel film, l'attore è quello che fa Tom Selleck. Tom Selleck. Tom Selleck, scusate. Perché faceva Magnum P. Esatto. E per la prima volta nella storia della Disney, un personaggio reale entra con una foto, e in quel caso in un film d'animazione. Quindi nella versione americana si vede Tom Selleck, nella versione italiana mi vedo io. Diciamo, questa era la cosa, diciamo, straordinaria per la Disney. Ma vieni anche citato nel doppiaggio. Ah, perché il bambino dice... Dal bambino. A chi assomiglia? A chi assomiglia, Cornelio? Guardi, fanno i mucciaccia. Ok, Cornelio è sposato con Fran. E si vede. E si vede la foto, è vero. Sì, sì, sì. Allora, è il momento della mia trasformazione, però. Ti chiederei di voltarti, per favore. Devo uscire. No, 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 voltati. Tanto... Chiudi gli occhi. Puoi girarti. Ho diventato il capo. Oh, santa madre. Parlava tipo in questo modo. Sì, sono io il capo. Sono io il capo, Giovanni. Era il pasticcione lui, no? Rappresentava tutti quelli... Mi sono facendo malissimo. Oh, bovita! Tutti quei ragazzini che a casa non riuscivano a fare i lavori. Eh, che devo fare? Che devo fare? Si chiamava il capo perché era una testa o perché era il tuo capo? Allora, si chiamava il capo perché era una testa, ma anche perché Neil... Forse anche questa non l'ho mai raccontata. Neil aveva due soci con i quali aveva messo in piedi questo programma che era andato per 7-8 anni, come ti dicevo all'inizio sulla BBC. Uno dei due soci era un suo carissimo amico e si chiama Tim Edmunds. Non sapevano come farlo entrare nel programma e quindi hanno ideato questa testa che è non solo l'arterego, diciamo, di Tim, però è proprio... è fatta un po' a sua immagine e somiglianza. E lui era veramente il produttore esecutivo del programma, quindi era un capo. Grande Tim. Grazie Paolo. Eh, lo so. Succede. Tornando al discorso della voce. Hai dei tuoi riti particolari prima di cominciare a girare? Eh, questa è una bellissima domanda. Perché io facendo questo show, che è veramente un one show, perché io parlo per un'ora, 50 minuti, a un certo punto quando io finivo gli spettacoli mi faceva male la gola. Quindi ho chiesto ad un amico, che è un otorino, dice tu devi fare un esercizio comunque per scaldare la voce. Mi sono ricordato di un esercizio che mi aveva insegnato uno dei miei maestri della scuola di recitazione, Gianfranco Mazzoni, che è il mie... Ma puoi fare anche... E poi... Lo fai, una volta adesso sono preso... Scaldi la voce, le corde vocali si dilatano, si restringono in funzione dell'aria, insomma. Quindi tu sei qui, mio ospite, scuola di voce, e io voglio imparare qualcosa. Eh, se posso. Voglio imparare qualcosa da te. Perché ti posso? Voglio imparare, voglio fare una scuola di conduzione. Tu hai condotto programmi per tutte le facce d'età praticamente. Tu, immagino, adatti il tuo modo di parlare in base al tuo pubblico. O hai un tuo modus per cui ritieni... Ma dipende molto dal contesto. Immaginiamo una puntata di Heart Attack. Sì. Ok, cambierò il tuo pubblico mentre presenti. Sì. Allora, iniziamo coi bambini. Immagina che loro siano dei bambini a cui tu stai spiegando come costruire il mostro con tre occhi. Ma bambini di quanti anni? Sei. Ciao bambini, eccomi! Oggi vi faccio vedere una cosa fantastica. Costruiremo insieme un vero marziano con la carta pesta e utilizzando semplicemente un palloncino. Ah, ci servono anche tre occhi, tre palline da ping pong. Mi raccomando, chiamate mamma e papà perché vogliamo far giocare anche loro con noi. Adesso hanno 25 anni. Dopo aver costruito il vostro... il vostro pubazzetto non vi resta che colorarlo. Naturalmente dovete utilizzare i colori che avete a vostra disposizione. Potreste prendere lo smalto della vostra fidanzata, utilizzare la solita colla vinilica, impastarla per ottenere un acrilico che ha una bellissima risoluzione grafica. Ora sono anziani. Quanti anni? Tra i 70 e gli 80. Non so se riuscite a vedere... Questo marziano verde è bellissima la sensazione che vi dà sotto le dita. Provate a farlo perché è una sensazione unica e soprattutto vi farà sentire ancora una volta le vostre mani che pensate di aver perso con l'artrosi. Ora sono commercialisti. Oh madonna. Questo pupazzo che state vedendo ha una scadenza molto lunga. Non vi preoccupate perché potrebbe essere a 3, 6, 9 mesi. Se la procrastinate non è un problema perché la rata non aumenta. Cioè il costo per realizzarlo più o meno rimane simile. Ora sono giocatori di basket. Oh santa madre. Eccola questa è la vostra palla ideale ragazzi. La vedete perché quando la lanciate questa ruota state attenti però perché come sempre ci sarà un battitore e un ricevitore. Il ricevitore deve stare attento soprattutto alle zampette che se sbaglia la presa potrebbe prendere una zampetta. Ora sono anatre. Facciamo così, ti insegno io una cosa a te. Ok vai. Ah tu abbiamo detto che hai doppiato un personaggio nei Robinson ma c'è un personaggio che avresti voluto doppiare? Una voce che avresti sempre voluto fare? Beh le grandi voci del cinema mi piacciono molto, dei grandi attori, De Niro, Al Pacino. Vogliamo provare a doppiare una scena di Scarface? Eh dai proviamoci. Ciao. Come entra? Entra dentro. Entra. Dai. Ok tutto a posto. No scusa lascia la porta aperta così mio fratello è più tranquillo vede che la situazione è a posto. Eh va bene. Sembra io d'Angelo tuo fratello. Non c'è problema. Lei è una tizia. Una tizia chi? Ah Rosa ciao. Eh Rosa Rosella Rosa Roseum. Ok dice che vai forte eh? Sì 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 io sono latino americano. Dai tira fuori la colla venire canale. Quanto sempre decolla si parla diciamo. Sì sì sì. Parliamo del tuo libro. Il mio libro nasce perché diciamo riprende tutte queste generazioni che sono cresciute 35, 25, 15 no? Le tre generazioni. Parla sempre di creatività, di fantasia però lo fa indagando la creatività degli artisti contemporanei. Cioè noi seguiamo i processi creativi perché capiamo come l'artista realizza le sue opere, siamo in grado di apprezzarle a quel punto no? Ma rubiamo da lì anche no? Cioè capiamo che tipo di connessioni mette in atto per realizzarle. Quindi impariamo l'arte e impariamo la creatività. E la mettiamo da parte. E la mettiamo da parte. È un libro sull'arte contemporanea però è molto focalizzato sulla fantasia e sulla creatività. Ci sono dei lavori che si possono riprodurre. Ci ho impiegato tanto per scriverlo. Ho fatto solo quello perché è stato nel post covid non ricordo però non è legato al covid. È legato al fatto che io lo fermo con la televisione. È un libro che è nato per caso dopo un'intervista come qui da te. In quell'intervista abbiamo parlato di arte contemporanea. Io ho fatto vedere alcuni artisti, alcune opere. Rizzoli mi ha chiamato e mi ha detto ma perché non scrivi un libro per raccontare l'arte contemporanea al grande pubblico? Perché il grande problema è che l'arte contemporanea non ce la spiegano a scuola. Cioè è vero. E quindi noi la rifiutiamo a priori perché pensiamo che sia complicatissima. Cioè dovremmo ricominciare al contrario. Cioè partire dall'arte del nostro tempo e andare a ritroso per poterla apprezzare. Perché capiamo l'arte del passato ma perdiamo quella del presente. È un vero peccato. Il titolo del libro è Attacchi d'arte contemporanea. Lo spettacolo anche quello che sto facendo in questo momento nasce da una costola del libro e anche in questo spettacolo c'è un art attack però è un art attack non per persone più grandi però quello che viene raccontato non sono i pupazzi di una volta ma è l'arte del nostro tempo e ve la racconto anche con un art attack. Alle stesse persone che sono cresciute. Io vi lascio poi tutti i link di Giovanni ovunque dove potete trovare. E invece altri progetti? Sto facendo spettacoli soprattutto e poi pratico arte nel mio studio. Abbiamo dato il via a una serie appunto sui social che Marco insomma si occupa dei montaggi che si chiama Cose che non sapevo. Ho sempre raccontato che ne so della polvere di mummia che era usata da tintoretto che usava questo materiale che si otteneva dalla macinazione di mummie vere. Nell'ultimo video racconto del lancio della ciabatta per esempio che è una gara che fanno in Francia. Un zoccoletto in fronte. Però racconto le cose più disparate. Io ti ringrazio di essere stato mio ospite Giovanni e vorrei chiudere la puntata a modo tuo. Purtroppo per oggi gli attacchi d'arte finiscono qui. Ma noi ci rivediamo nella prossima puntata con tante altre idee ancora da scoprire. Qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao! Ora voglio pane e nutella però. Ma guarda un po' chi c'è. Si lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi provare per credere.